5 tiri per una volta, questa è una donna, questo è un altro, deve produrre tutti 5 tiri. Il momento della verità, vediamo come va, trociamo le verità. Un chilo di due, un chilo di quattro, un chilo di quattro, un chilo di quattro, tre tiri, un chilo di quattro, un chilo di quattro, un chilo di quattro, centri di quattro, un chilo di quattro, un chilo di quattro, un chilo di quattro. Sono cinchanta grandi 여러분들, sono cinchanta básicamente circa un tranquillo per questa potrebbero essere di più ragazzi questo conferma l'importanza di Big Red alla camera che non fare più di 8 tiro in settimana che non resta o la storia serve che Big Red lavori solo il più possibile se continuiamo e appena lo accendiamo il saco spesso perché a questa velocità di Big Red per fare facilmente ma beh, mi serve tutto grazie l'estensione della casa a questo punto noi che siamo proprio molto suvega per avviare Big Red a farci provare il tuo tavolo di Big Red